E' medico e ricercatrice, nota a livello internazionale, attualmente impegnata in progetti di ricerca diabetologica. Oltre 40 partecipazioni ai più importanti congressi mondiali, 45 invece le pubblicazioni di studi nelle riviste di caratura scientifica. Francesca D'Addio è la ricercatrice fanese che questa mattina è stata ricevuta nella Sala della Concordia del Comune di Fano in occasione di un altro importante riconoscimento conferitoli in merito a uno sviluppo di nuovi approcci terapeutici per il trattamento del diabete di tipo 1 e delle sue complicanze gastrointestinali. Frutto di un lavoro di un team di esperti sono stati stanziati 4 milioni di euro con un finanziamento a livello internazionale. La particolarità di Entera, startup nata nel 2016 da un'idea di Paolo Fiorina, professore di endocrinologia della stessa D'Addio, istituzionalizza la possibilità non soltanto di alleviare i sintomi del diabete ma di curare la malattia facendo in modo che le cellule del pancreas ricominciano a produrre insulina. Attualmente lo studio è in fase di ricerca ma i progressi raggiunti hanno permesso alla startup di ottenere la fiducia degli investitori. Con questo nuovo finanziamento, ha ribadito la ricercatrice in conferenza, si potrà concludere la fase che porterà all'individualizzazione del farmaco più adatto per poi essere introdotto nel commercio. Abbiamo diverse linee di ricerca, abbiamo un farmaco in fase di sviluppo e abbiamo una nuova modalità terapeutica basata sull'utilizzo delle cellule staminali ematopoietiche ingegnerizzate, quindi con terapia genica, che speriamo di poter utilizzare e di poter portare in clinica nell'ambito dei prossimi, diciamo, 3-4 anni. Non siamo lontani dalla cura e ci stiamo impegnando moltissimo, il tutto grazie alla possibilità che ci è stata data dalla Fondazione Invernizia e dal centro di ricerca pediatrico che abbiamo costruito presso l'ospedale Sacco col supporto dell'Università degli Studi di Milano.